Oh ma inviato, che bello oggi, lo vedo qui nel televisore. Ma mi dica un po' cosa succederà nella prossima puntata. Allora vi aspetto giovedì alle 21 qui su Obiettivo News, parleremo di lavoro, cercheremo di capire perché i giovani d'oggi faticano a trovare lavoro e poi vorremmo sapere che cosa la gente ne pensa di tutte queste proteste contro il Green Pass nelle sedi di lavoro. Insomma parleremo di tutto questo e molto altro, mi raccomando vi aspettiamo. Ah e poi conduttore dica a lei questa volta, dia lei l'appuntamento. Ah devo darlo io, ma è sempre lei che vuole parlare. Vabbè lo do io stavolta l'appuntamento. Allora non mancate questa sera alle 21 qui su Obiettivo News. Vi aspettiamo.